Dal Comune di Torino in forma disabilità abbiamo il piacere di comunicare il prossimo evento Disability Pride a Torino il 20 aprile. L'evento ha un grande obiettivo di dare visibilità alle persone con disabilità e del mondo LGBTQ tramite la grande manifestazione in grado di portare in primo piano le istanze delle persone disabili e neurodivergenti. Il tutto con l'obiettivo di rivendicare non solo i diritti ma anche orgoglio e visibilità finalizzato ad eliminare le discriminazioni. L'evento sarà il 20 aprile alle ore 14 ritrovo presso Lungodora Savona e alle 15 la partenza per arrivare alle 16.30 in piazza Vittorio Veneto a Torino e garantito il servizio di interpretare Atoliss.